Il corso Preparto di Palestra California viene svolto sia in palestra che in piscina. L'unicità di questo corso è dato dal fatto che viene abbinata alla musicoterapia, per cui oltre alla preparazione fisica, che è uno degli obiettivi principali, vengono effettuate dinamiche relazionali, vengono affrontati gli aspetti psicologici e la relazione col bambino già a partire dalla influenza psichica della madre che crea durante il periodo gestazionale. Abbiamo detto che c'è una prima parte di corso che viene svolta in palestra e una seconda che viene svolta in piscina. In questo corso vengono proposti esercizi specifici preparto per una corretta postura, di flessibilità dei movimenti, esercizi per migliorare la circolazione ed esercizi di stretching. Inoltre vengono aggiunte respirazioni, tecniche di rilassamento e posizioni da travaglio. Il proseguo naturale di questo corso è l'aquaticità neonatale. In una piscinetta apposita tenuta a 34 gradi vengono fatti diversi corsi già fin dall'età più tenera. Questo vuol dire che poco dopo il parto è già possibile iniziare coi corsi inserendosi nello 0-6 mesi oppure abbiamo il 6-12, il 12-18 e il 18-36. Per cui ogni genitore avrà l'opportunità di interagire e giocare col proprio figlio sotto la guida di istruttori esperti che propongono esercizi specifici per acquisire l'aquaticità, galleggiamento con supporti e per poter anche fare delle immersioni. Tant'è che il bimbo appena nato ha ancora l'istinto di immergersi senza avere istinto che poi in seguito verrà perso e dovrà essere nuovamente riacquisito. Verranno proposti diversi stimoli visivi, tattili e sonori attraverso la musicoterapia che miglioreranno sia l'aspetto psicomotorio del bambino che la sua socializzazione. Utilizzazione